Musica Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca una scia di furti si è registrata nel territorio comunale di Castiglion Fiorentino. A lanciare l'allarma è stato lo stesso sindaco Mario Agnelli. Non la definirei un'escalation estremamente preoccupante ma è sicuramente da attenzionare il fatto che i furti di cui sono a conoscenza avvengono sempre più in modo premeditato, organizzato e con dei ride che hanno fatto davvero danni importanti a chi li ha subiti. Era partito dai social l'appello del sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli in merito ad una serie di furti in abitazione tra quelle visitate dai ladri anche quella del noto veterinario Alberto Brandi per esortare i suoi concittadini a denunciare e segnalare ogni movimento sospetto. Colpi tra le 18 e le 20 aveva detto Agnelli a caccia di contanti. Quindi l'idea è quella che ci siano proprio dei basisti e non è più micro criminalità ma è una micro criminalità organizzata che probabilmente si avvale anche di metodi e preparativi per colpire in modo importante chi subisce furti. Per questo l'appello anche a unire le forze che sono i soliti appelli, quelli di dare delle comunicazioni alle autorità quando ci sono movimenti sospetti e utilizzare anche purtroppo a posteriori quello che è il sistema di videosorveglianza anche privata che unita a quella magari pubblica può individuare responsabilità e colpevoli. Da quanto sembra poi lei sta denunciando una cosa importante i basisti ma sembra criminalità che si sposta, che venga anche da fuori, provenga anche da fuori. Questo purtroppo è un fenomeno che pare esserci sempre stato. Ci sono dei momenti in cui questi furti si concentrano in determinate aree per poi spostarsi quindi evidentemente sono dei flussi che sono molto preoccupanti. Tutto sommato dobbiamo ritenerci in un'area ancora tranquilla ma non lo possono dire certamente le tante famiglie e anche le aziende che talvolta vengono colpite da questi furti. Torniamo adesso a parlare dell'alletta a lupo, una problematica che domani finirà sul tavolo del prefetto di Arezzo, Maddalena De Luca. Queste immagini ci arrivano dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e ci restituiscono tutta la bellezza di un animale, il lupo, che negli anni dopo il pericolo di estinzione si è indubbiamente riappropriato dei suoi spazi naturali. Oggi al centro di un difficile equilibrio tra la natura appunto e la sicurezza dell'uomo. Qui un esemplare è in cerca di una sorta di amicizia poi purtroppo andata male con una volpe. Qui come natura vuole invece sta cacciando ed infine qui una coppia che marchia il territorio. Scene bellissime purché relegate appunto in un habitat naturale come il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Altra cosa se gli avvistamenti di questi esemplari avvengono a ridosso dei centri abitati come ci hanno raccontato le cronache di questi giorni. Per l'allerta scattata in seguito alle numerevoli segnalazioni di cittadini e del comitato problema lupo, alle 17.30 del 2 febbraio si terrà un vertice in prefettura. Oltre 100 gli esemplari che sarebbero già stati censiti in provincia di Arezzo sono stati individuati 24 branchi. Il tavolo tecnico dovrà definire il piano d'azione da adottare. Tre anni fa il primo caso Covid in Italia. Iniziava così l'incubo pandemia. Oggi all'ospedale di Arezzo fortunatamente torna ad essere vuoto il reparto di terapia intensiva per pazienti Covid. Siamo entrando nella terapia intensiva destinata ai pazienti Covid che come potete vedere attualmente è libera. Sono passati tre anni da quando il Covid è entrato per la prima volta in Italia. Due turisti cinesi ricoverati a fine gennaio 2020 allo Spallanzani di Roma. Oggi la terapia intensiva per pazienti Covid dell'ospedale San Donato di Arezzo è finalmente vuota. Ricordo perfettamente la data. Ad Arezzo i primi pazienti sono arrivati il 5 di marzo. In quel momento eravamo relativamente impreparati sia da un punto di vista strutturale e organizzativo, e questo era normale, ma soprattutto da un punto di vista anche clinico. Poi la seconda ondata dove le curve dei contagi e dei ricoveri hanno toccato il loro picco. Io mi porto dietro rispetto a questa esperienza l'aver provato paura, l'aver provato smarrimento, sia sul piano clinico ma anche sul piano umano. Ma mi porto dietro anche una grandissima prova di lavoro di squadra. Mai come in quel periodo siamo stati uniti, compatti. Oggi continua la ritirata del Covid. Lo scorso anno, nel periodo di gennaio, abbiamo avuto 45 pazienti Covid e nel mese di gennaio 2023 ne abbiamo avuti 10. Non c'è però solamente il Covid. C'è un altro tipo di pandemia, se la vogliamo chiamare. Ci sono tanti malati, tante persone che hanno bisogno della terapia intensiva, di una terapia subintensiva. E quindi è vero, il Covid ci ha impegnato di meno, ma comunque noi siamo stati impegnati su altri fronti. Prosegue invece la carenza di medicinali a lanciare il nuovo allarme è Federfarma Arezzo. La carenza di alcuni farmaci d'uso comune e stagionale continua ad essere una realtà. Difficoltà che riguardano i più utilizzati antifiammatori, antipiretici ed antibiotici, ma anche medicinali per la gestione di importanti malattie croniche, come l'ipertensione, l'epilessia e persino alcuni antitumorali. Questo è l'allarme lanciato da Roberto Giotti, presidente di Federfarma Arezzo. La situazione è dovuta, spiega, da una parte alla carenza dei principi attivi più richiesti per la notevole diffusione delle malattie tipiche stagionali del Covid e dall'altra anche alle difficoltà nell'approvvigionamento delle materie necessarie e il confezionamento di tutti i farmaci medicinali. L'AIFA aggiorna costantemente la lista dei farmaci carenti, ma i farmacisti, insiste Giotti, rinnovano il proprio impegno nel suggerire alternative terapeutiche per assicurarsi le preparazioni caleniche. Il pianeta farmacie si è infatti subito attivato affinché le farmacie in grado di realizzare preparati calenici avessero tutti gli strumenti per essere operativi e superire alle carenze esistenti, in primis di farmaci antinfiammatori pediatrici a base di ipobrufene. Le farmacie, conclude il presidente Giotti, restano un punto di riferimento sempre disponibile per informare e orientare il paziente anche sull'utilizzo di eventuali alternative terapeutiche laddove l'irreperibilità di uno specifico medicinale dovesse perdurare. La Toscana prosegue nella dispensazione gratuita di pillole e metodi contraccettivi, un impegno confermato da una recente delibera regionale che si traduce in una spesa da 350 mila euro l'anno. La Toscana è stata la prima nella 2018 ad attivare questa misura. La pillola anticoncezionale ed altri metodi contraccettivi sono gratuiti per i giovani dei 14 e 25 anni che si recano al consultorio, per le donne tra i 25 e i 45 che hanno un reddito fiscale un'ISE che non supera i 36.151,98 euro. Contraccezione gratuita poi anche per le donne tra i 26 e i 45 anni e entro i 12 mesi dal parto due anni da un'interruzione di gravidanza. Voltiamo pagina in attesa della via libera della regione Toscana al piano attività 2023. Il consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno cerca nuovi alleati per la mitigazione del rischio idraulico. Con la pubblicazione dell'avviso l'ente ha riaperto i termini per l'iscrizione delle imprese agricole all'albo informatizzato per l'affidamento diretto di una parte degli interventi di manutenzione ordinaria sul reticolo di gestione. Si aprono quindi nuove opportunità per imprese agricole e forestali della comprensorio che se dotate di risorse umane e strumentali adeguate possono farsi avanti da oggi sino alla 28 febbraio. E ci spostiamo adesso invece in Casentino a Bibbiena dove questa mattina è stato inaugurato il nuovo sportello CISL. Le sedi sono importanti perché sono un presidio anche del territorio sia per i servizi sia per l'attività sindacale. Servizi che devono essere di qualità del padronato, del CAF insieme all'attività delle federazioni che con la loro presenza danno un importante contributo anche al territorio. Inaugurata la nuova sede CISL di Bibbiena. I locali si trovano in piazza Generale Sacconi 3435. Abbiamo deciso di ampliare la nostra struttura nel territorio, di investire in questo territorio bellissimo ma anche dalle tante opportunità e dalle tante aziende che stanno cercando un luogo dove svilupparsi. Hanno scelto il Casentino e noi abbiamo scelto il Casentino per implementare servizi e la qualità della nostra offerta, non solo per essere vicini a tutte le persone che hanno bisogno e necessità di essere ascoltate. Con la nuova sede vengono rafforzati i servizi CAF e soprattutto quelli del patronato INAS. La federazione pensionati svolgerà poi il prezioso lavoro di accoglienza e le categorie dei metalmeccanici, eddi di commercio e lavoratori del settore agricole e forestale alterneranno la loro presenza tutte le settimane, mentre l'ufficio vertenza e la di Consum saranno presenti bimensilmente. La nostra è una vallata bellissima dal punto di vista naturalistico ma anche importante dal punto di vista produttivo. Siamo uno dei distretti industriali principali italiani e quindi ci sono tanti lavoratori, tante famiglie e anche tanti anziani e quindi è importante dare loro risposte e la CIS è in grado di farlo e quindi con questa nuova sede sarà maggiormente in grado di poter dare queste risposte. Positivo l'incontro tra l'assessore Giovanna Carlettini, tecnici dell'ufficio ambiente e vertici del servizio veterinario dell'Asla Toscana Sud-Est per fare il punto sulle colonie feline. ed individuare modalità che garantiscano una maggiore efficacia nella gestione delle sterilizzazioni. Anche grazie alla fattiva collaborazione di EMPA e OIPA siamo riusciti ad intervenire su situazioni complicate innalzando notevolmente il numero delle sterilizzazioni dei gatti, ha dichiarato l'assessore Carlettini. Adesso, grazie alla semplificazione burocratica concordata con i veterinari dell'Asla, contiamo di migliorare ulteriormente i numeri. Questo lavoro si inquadra dunque in un impegno a 360 gradi a favore degli animali da parte dell'amministrazione comunale e tra i prossimi obiettivi c'è quello della realizzazione di un cimitero degli animali, un progetto che è stato già approvato. A Ponte Buriano invece domani setta di una serie Netflix, domenica 5 e lunedì 6, lo storico Ponte sarà così interdetto al traffico per permettere l'allestimento del set medievale e le riprese dell'opera di Boccaccio. Dallo sfondo della gioconda a location di una nuova serie TV, Ponte Buriano, domenica 5 e lunedì 6 febbraio si trasformerà in un set cinematografico. Come già annunciato nelle scorse settimane è stato infatti scelto come location della nuova serie TV The Cameron. Ringrazio la produzione che ha scelto il nostro territorio per la serie TV, afferma il presidente della provincia di Arezzo Alessandro Polcri. Le riprese andranno in onda nel 2024 e permetteranno di portare alla ribalta lo storico Ponte, un'occasione questa che mi auguro faccia da attrattiva per l'intero territorio. Un lavoro che ha visto un'attenta programmazione della truppa americana con il supporto della provincia e del comune di Arezzo e della fondazione Arezzo in Tour. Ci saranno però delle conseguenze per il traffico e dunque con le deviazioni che scatteranno dalle 12 di domenica 5 febbraio fino alla mezzanotte del 6 di febbraio. Per i veicoli con massa a pieno carico inferiore alle 7 tonnellate e mezzo nella direzione Arezzo Castiglion-Fibocchi da Quarata si dovrà attuare la svolta nella provinciale 43 della Libia fino alla rotatoria di Campolucci, poi la strada comunale di Campolucci e di Castelluccio, la provinciale 56 dello Spicchio fino a Ponteburiano e Castiglion-Fibocchi e viceversa. Per i veicoli invece con massa a pieno carico superiore alle 7 tonnellate e mezzo il percorso alternativo nella direzione Arezzo Castiglion-Fibocchi è rappresentato da Via Fiorentina, Salleo Indicatore, regionale 69 di Valdarno, Ponticino, Laterina, strada provinciale 2 fino a Castiglion-Fibocchi e viceversa. A Castiglion-Fiorentino un evento speciale alla Teatro Comunale Mario Spina, lo spettacolo, il pittore di cadaveri che vedrà come protagonista Ornella Muti. Nel teatro c'è ancora la possibilità di esprimere qualche cosa che è comune perché l'amore è di tutti i giorni, ogni storia poi alla fine parla della stessa cosa, ma in una maniera diversa, molto poetica, diversa per cui può anche spaventare il titolo, può sembrare, poi noi italiani siamo un po' superstiziosi per cui i cadaveri invece è solo una forma per raccontare una storia. Attesa a Castiglion-Fiorentino per lo spettacolo che vedrà protagonista Ornella Muti, il pittore di cadaveri, ospitato al Teatro Comunale Mario Spina. È la storia poetica di un riscatto personale che ha come protagonisti l'artista Eduard Vitavich e Teresa, di cui il pittore dovrà fare il ritratto. Ogni personaggio esprime la sua forma di amore, che è quello che in tutti i giorni nella società succede. C'è un amore più malato, c'è un amore di devozione, c'è un amore tra me e il pittore, c'è un altro amore, quello di Cecilia, anche una società, un lavoro, il denaro che è quello di Roberto Negri, ma sono tutte forme d'amore che sono molto contemporanee, che appartengono al nostro quotidiano, espressi in una maniera diversa. È vero, ho fatto anche io le mie commedie, anzi spesso un po' rimango anche male perché incontro i miei fan e tutti mi parlano del bisbetico domato, di cui sono molto orgogliosa, veramente. Però ho fatto anche tanti altri film e tanti film dove c'era una tematica importante. Io penso che sia importante attraverso lo spettacolo portare alla luce problematiche o comunque indurre gli spettatori a pensare, o a commuoversi, o a avere un pensiero introspettivo per capire, cavolo, forse anche io, cioè la cultura ci insegna, ci fa crescere e questo credo che sia importante. Martedì 7 febbraio alle 11 alla palestra dell'Istituto Comprensivo Margaretone Di Arezzo verrà proiettato in la docufilm Una Storia Impossibile. Alla proiezione parteciperanno tutte le classi terze per un totale di 150 alunni, un'iniziativa fortemente voluta dal presidente Massimo Anselmi che sarà presente all'evento con i registri Cristiano Stocchi e Maurizio Gambini che introdurranno la proiezione. Saranno presenti anche alcune calciatrici dell'Arezzo calcio femminile. Passiamo allo sport. La chimera a nuoto in Vasca nella prima prova della campionato regionale di nuoto sincronizzato. 14 atleti a retina hanno vissuto il debutto stagionale a Prato dove si sono messe alla prova in un programma individuale di esercizi obbligatori in cui una giuria ha valutato l'esecuzione trovando soddisfazione soprattutto nella categoria new entry. Particolari emozioni nel frattempo arrivate anche dalla prima prova interprovinciale di nuoto del settore pre-agonistico propaganda che a Poggi Bonzi ha impiegato sei bambini e bambine del biennio 2014-2015. Questa per stasera era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci.